Noi proviamo a realizzare quanto ci avevamo promessi già dalle prime battute di questa mattinata, a collegarci con Federica Bianchi, referente regionale di Libera Puglia, proprio con Milano, dove oggi si celebra, come ci ricordava la stessa Paola, nell'apertura degli aggiornamenti, la ventottesima giornata della memoria dell'impegno, il ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Federica, buongiorno, ben trovata. Buongiorno, buongiorno a tutti da Milano, siamo la testa del corteo che sta per partire. Dove siete di preciso in questo momento? Siamo in Corso Venezia, ma il corteo è lunghissimo, se riesco giro la telecamera e così vi faccio vedere un po' quello che stiamo vedendo noi da qui, è un chiume davvero di persone, qui c'è la testa del corteo con la bandiera della pace, gli scout che reggono come al solito come usanza la bandierona della pace, i confaloni di tutti i comuni presenti da tutta Italia e non solo, il corteo che sta per partire. Eccola lì, vedevamo la bandiera ondeggiare, se metti il telefono in posizione orizzontale avremo le tue immagini, ecco grazie, le tue immagini a tutto schermo, stiamo vedendo la bandiera della pace che ondeggia su via Venezia, da dove parte il corteo di questa importante manifestazione, fortunatamente c'è il sole lì a Milano. Sì c'è il sole, è una bellissima giornata di primavera, fa più caldo qua che non appoggia da dove sono partita, ecco in diretta il corteo si sta muovendo, vedete è appena partito il corteo. Grazie Federica, siamo felicissimi di poter idealmente partire insieme a voi, far parte insieme a voi di questo importante corteo, di questa manifestazione organizzata da Libera, associazioni Nomi e Numeri contro le mati, è un'associazione nata nel 1995, preseduta da Don Luigi Ciotti, abbiamo una grafica anche con i numeri di Libera, numeri che abbiamo preso direttamente dal vostro sito ufficiale, sito dal quale chi vorrà potrà seguire in diretta streaming la manifestazione. Tu sei il referente regionale della Puglia, questi anni alla guida della delegazione regionale e come membro attivo di Libera che cosa ti lasciano personalmente? Guarda, mi lasciano molto più di quello che io posso dare, non è una frase fatta, è la verità, la gioia dell'incontro con davvero tante persone, tanti ragazzi che quotidianamente anche appoggiano nella provincia ma in tutta la regione chiedono, vogliono conoscere, vogliono partecipare, vogliono conoscere che cosa fa la presenza delle mafie sui loro territori, questa sete di conoscenza è qualcosa davvero che ti lascia senza parole perché poi i ragazzi se hanno dei riferimenti sono davvero capaci di riflessioni che forse neanche noi adulti a volte siamo in grado di fare e quindi la loro sensibilità, la loro voglia di cambiamento, la loro speranza che davvero le nostre terre possono essere liberati dalla mafia è un qualcosa che dà anche a me la forza tutti i giorni di continuare a impegnarmi e poi chiaramente l'abbraccio con i familiari, ecco qui vedete che sta per passare la delegazione della Puglia, vedete c'è lo striccione del presidio di Bari dedicato a Luigi Fanelli e poi dietro ci sono tutti gli altri presidi della Puglia che stanno partecipando, ecco qui qua sono tutti i ragazzi e ragazze venuti, ecco siamo partiti ieri sera alle otto e mezzo da Bari anche prima alle sei e mezzo dalla Puglia per essere qui oggi e dire insieme il nostro no alle mafie e dire che è possibile un paese, una provincia, una regione libera dalla presenza della violenza mafiosa e essere qui tutti insieme significa anche questo, significa metterci la faccia, significa stare a fianco ai familiari delle vittime innocenti delle mafie che voi sapete quest'anno il nostro elenco ha 1116 nomi, 1116 vite strappate dalla violenza mafiosa e noi siamo qui oggi per ricordarle tutte, tutte insieme senza distinzioni, per abbracciare i loro familiari e per dire che l'Italia che vogliamo è un'Italia diversa, un'Italia dove sono, ecco i diritti sono tutelati, dove c'è lavoro, dove c'è giustizia sociale, dove c'è uguaglianza e le mafie non vogliono tutto questo, le mafie non vogliono cittadini e cittadini liberi mentre il nostro impegno come libera è proprio per questo, per liberare i nostri territori, la nostra Puglia, le nostre bellissime città dalla presenza e dalla criminalità organizzata. Consapevolezza del sé, consapevolezza degli altri, consapevolezza di quanto è meraviglioso il nostro territorio, lo dicevamo prima con i nostri ospiti che venivano da Monte Sant'Angelo come riscatto cultura che si contrappone, cultura della legalità che si contrappone alla subcultura mafiosa che impedisce come dicevi tu la partecipazione democratica a un paese come il nostro che è ricchissimo di potenzialità e che può essere vissuto senza questo gioco estenuante che poi va a sacrificare tante volte la meritocrazia di tanti cervelli che poi spesso sono costretti anche a cercare fortuna anche fuori dall'Italia per sottrarsi a certe logiche, a certe dinamiche. Federica per questo è importante davvero quello che Libera sta facendo in questi anni e lo sta facendo aggregando tante associazioni per sostenere questa battaglia alla mafia, alle mafie come dicevi tu e noi vi siamo molto grati per questo. Ti pregherei di ritornare sulla tua immagine in maniera tale che ci si possa salutare. Eccoti qua, puoi tenere sempre il telefono in posizione orizzontale, ecco perfetto, grazie. Non vogliamo rubarti altro tempo, non vogliamo distrarti ulteriormente da questa giornata così importante per te e per tutta Libera ma prima di salutarti ti chiederei al volo il programma della giornata anche per sommi capi. Sì, allora noi adesso come avete visto il corteo è partito in diretta con voi e arriveremo fino a Piazza Duomo quindi attraverseremo le vie più importanti della città di Milano, questo di essere al nord una scelta importante che Libera ha fatto con convinzione nella consapevolezza appunto che le mafie non sono un fenomeno relegato solo al sud Italia ma che anzi qui c'è una presenza mafiosa importante proprio perché le mafie vengono anche a reinvestire i loro capitali illeciti ed ecco allora che essere qui significa dire tutto questo, dire appunto che le mafie non sono un fenomeno che riguarda purtroppo solo alcune regioni ma che appunto investe tutta la penisola anche se in forme e con modalità diverse, significa però dire che ci sono tante persone, Libera è un insieme di realtà singoli, associazioni che vanno dagli scout a gruppi laici, a associazioni di giovani, associazioni di pensionati, davvero c'è una pluralità immensa e bellissima e anche tanti singoli e quindi con tutte queste persone questo corteo che davvero non so se dalle immagini si percepisce ma è enorme, attraverserà le vie più importanti della città fino ad arrivare a Piazza Duomo dove verrà letto l'elenco di tutte le vittime innocenti della mafia che ripeto quest'anno l'elenco a 1116 nomi e poi si concluderà con il discorso di Don Luigi Ciotti che come hai detto anche tu prima insomma chi vorrà potrà seguirci in diretta sui nostri canali streaming e poi nel pomeriggio ci saranno dei seminari di approfondimento per chi vorrà approfondire le tematiche più varie dal giornalismo alla lotta alla corruzione alla presenza mafiosa in varie regioni d'Italia insomma davvero ai beni confiscati alla mafia e tantissimi seminari di approfondimento che serviranno appunto per aumentare la consapevolezza di ciascuno e ritornare più ancora più impegnarci su ciascuno sui territori di provenienza. Grazie Federica siamo davvero contenti di questo collegamento ti auguriamo buona giornata e buon lavoro e ti aspettiamo poi al ritorno magari nei nostri studi per raccontarci come è andata. Volentieri volentieri grazie a voi per questo collegamento per questa attenzione abbiamo bisogno di raccontare insieme sia la presenza delle mafie ma anche questo bellissimo mondo di persone che si impegnano per la libertà dei nostri territori grazie a voi.